Proteste, tensioni e polemiche. L'approdo della pratica di piazza Cittadella in Consiglio Comunale, il documento di riequilibrio economico-finanziario per avviare il tanto atteso e discusso parcheggio interrato, è stato accompagnato da un clima a dir poco incandescente con il fuoco di fila delle minoranze. All'esterno di Palazzo Mercanti un gruppo di attivisti, tra cui Legambiente ed Europa Verde, ha esposto uno strescione con la scritta Giù le mani da Cittadella e l'accusa alla Giunta Tarasconi di portare avanti un progetto dannoso per le casse pubbliche e l'ambiente. Mentre nell'emiciclo istituzionale la seduta si è aperta con la richiesta di sospensione da parte della capogruppo di Fratelli d'Italia Sara Soresi. Richiesta respinta, ma Soresi e Gloria Zanardi di Fratelli d'Italia hanno sfoderato una maglia con la scritta Pratica di fretta, decisione sospetta, per poi esporre un salvadanaio come denuncia del prospettato aumento delle tariffe nelle strisce blu. Dopodiché il gruppo di Fratelli d'Italia ha abbandonato il Consiglio Comunale in aperta protesta? Siamo uscite perché riteniamo che non ci sia stata data la possibilità di esercitare il nostro potere e dovere di controllo degli atti amministrativi. Riteniamo che mancassero una serie di step fondamentali, mancava in questa pratica il parere dell'Avvocatura Comunale, mancava un parere aggiornato dell'ANAC e quindi abbiamo chiesto semplicemente di rinviare la seduta di un mesetto e non c'è stato consentito. Il motivo di questa fretta ad oggi non l'abbiamo compreso, il direttore generale ci ha detto più volte che un eventuale rinvio non avrebbe pregiudicato l'ente e quindi ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta, abbiamo preferito uscire. Pronta la replica dell'assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni che ha spiegato come l'amministrazione si sia attenuta agli atti nella gestione della pratica con la massima tutela del Comune. Non si può mettere in dubbio la correttezza e la professionalità degli interlocutori presenti al tavolo tecnico, ha puntualizzato l'assessore Bongiorni, per poi garantire che sarà vigile e inflessibile con GPS. Va ricordato che la nuova revisione del piano economico finanziario tra il Comune e GPS, appunto, la società Global Parking Solution prevede costi di realizzazione più alti per il futuro parcheggio interrato di piazza Cittadella una spesa aggiuntiva di quasi 4,7 milioni di euro e nel frattempo, a partire dal 1 gennaio 2024, un incremento della tariffa nelle strisce blu in tutta la città, pari a 28 centesimi all'ora in più. L'accordo risale al 2012? Si prevede l'inizio del cantiere tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024, durata 18 mesi, salvo il ritrovamento di reperti archeologici. Grazie a tutti.